Massimo Giletti e il flirt con Sofia Goggia, lui si sbilancia, donna straordinaria e intelligente Il conduttore dello stato delle cose non è più single, e pare proprio che ad avergli rubato il cuore sia stata la talentuosa sciatrice. Scopriamo di più È ormai diverso tempo che la cronaca rosa vocifera sull'ipotetica nuova coppia formata dal conduttore Massimo Giletti e lasciatrice Sofia Goggia Fino ad ora, però, nessuno dei due si era mai sbilanciato su questo ipotetico flirt, lasciando scorrere le ipotesi senza dare alcuna certezza Ebbene, in una recente intervista sul settimanale Gente, Giletti ha raccontato qualcosa in più sulla sua situazione sentimentale, lasciandosi andare a qualche inedita dichiarazione anche sulla bella e brava Sofia, scopriamo di più Massimo Giletti, i rumors sul flirt con Sofia Goggia Le prime voci sulla relazione tra Giletti e Sofia sono nate nel corso dell'estate 2023, quando i due sono stati fotografati insieme mentre si rilassavano della piscina di un agriturismo All'inizio di quest'anno, inoltre, lo stesso Giletti ha rivelato a Gente, c'è qualcuno e me lo tengo stretto, non ho mai raccontato la mia vita privata Posso dire che c'è una persona importante a cui tengo molto A questo punto, l'associazione tra la nuova situazione sentimentale del conduttore e le foto con Sofia Goggia è stata inevitabile, e il gossip ha iniziato ad alimentarsi ipotizzando una vera e propria storia d'amore tra i due Essendo però due persone molto riservate in merito alla loro vita privata, fino ad ora nessuno dei due si era mai sbilanciato sull'argomento Massimo Giletti su Sofia Goggia, una ragazza straordinaria In una recente intervista sempre sul settimanale Gente, il conduttore dello stato delle cose è tornato a parlare di sentimenti rivelando Sono emozioni che tu senti ed è giusto esporsi e viverle quando hai il cuore che va in un'unica direzione Anche nell'assenza, nella solitudine, si sente la mancanza dell'amore, per cui sì, certamente sono un uomo diverso da quello del passato Immancabile dunque la domame da diretta proprio sulla sciatrice Sofia Goggia. In questo caso, però, Giletti è rimasto tra il detto e non detto affermando, Sofia è una ragazza straordinaria Una donna intelligente che ha qualità infinite, ma io, come disse l'avvocato Agnelli a Minoli, parlo con le donne e non parlo di donne Quello che è il nostro rapporto è personale, non mi va di raccontarlo. Al momento, dunque, nessuna conferma diretta dell'eventuale storia d'amore tra i due, anche se è ormai palese che tra loro vi sia in ogni caso un grande affetto Di che natura? Al momento non è dato sapersi, ma chissà che il loro prossimo ritrovo in piscina non possa svelarci qualcosa in più Grazie a tutti!